Tra le passioni del Presidente Kraus c'è anche il calcio femminile come negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti è un richiamo davvero molto importante. Guardiamo le immagini della partita di domenica del Parma femminile, che sta chiudendo il girone d'andata di questa pool salvezza, uno a uno con la Sampdoria, purtroppo tre sconfitte e un pareggio hanno riportato il Parma in penultima posizione, fra l'altro avrà il turno di riposo nel prossimo turno, quindi ci potrebbe anche essere il rischio di essere superati dalla Sampdoria. Però mi piaceva far vedere, grazie anche a Gabriele Maio ovviamente che ci ha fornito le immagini, mi piaceva far vedere anche cosa succede anche nel calcio femminile, perché se noi ci lamentiamo degli arbitri di Serie B, questo è un rigore che a dieci minuti dalla fine non è stato dato al Parma, dal signor Sfira, Sfira con la R, ci tengo a precisarlo, Sfira di Frosinone, che non ha dato questo calcio di rigore ai danni di Martinovic, sono stati espulsi poi due allenatori del Parma, Panico e Giannetta, e quindi voglio dire, queste cose non succedono soltanto in Serie B, non succedono soltanto in Serie A, ma purtroppo anche nel calcio femminile. Quindi Parma, possiamo dirlo, defraudato di un possibile rigore, che poi non è detto che si segnasse, perché col Sassuolo ne ha sbagliati due, quindi tutto da fare. Però questo è il calendario delle ultime quattro partite dove il Parma calcio femminile si gioca davvero tanto per questa salvezza e questa è la classifica giornata. È difficile retrocedere, perché c'è una formula molto cervellotica, ma che comunque mette a riparo, secondo me, il Parma da… Sì, il penultimo posto penso che tu debba andare a fare uno spareggio, l'ultima va giù diretta, con la prima della Serie B, quindi. Però, insomma, diciamo… Bisogna proprio arrivare ultimi, ma sforzarsi molto. Ma diciamo che questa pulsalvezza non è partita proprio con il piede giusto, purtroppo, anche se la fine del campionato lasciava ben sperare. Poi, se arrivano anche questi episodi arbitrali, tutto è ovviamente più complicato.